Se soltanto si riprendesse a fare scouting nella musica, forse, forse, potremmo dare una possibilità enorme a tanti ragazzi, tante ragazze, tanti gruppi di emergere finalmente. Bentornati, siete sul mio canale e io di questo vi ringrazio sinceramente, grazie di cuore e ringrazio anche le persone che si sono abbonate al mio canale, i miei primi due abbonati, io li ringrazio, sono loro due, eccoli qui, grazie per essere qui con me e grazie per il sostegno che date a questo canale, se lo volete fare anche voi, liberi di farlo o altrimenti lo potete comunque sostenere mettendo un pollicione, l'iscrizione e poi l'attivazione della campanellina. In un precedente video oggi torno a parlare di musica e soprattutto dei ragazzi che non hanno la possibilità di emergere, di farsi ascoltare, notare dal grande pubblico. Ho già parlato di questo argomento in un altro video, vi metto la scheda qui, andate a vedere su cosa noi possiamo fare per dare una mano a questi ragazzi. Noi, e parlo dei media, ma parlo anche del pubblico che ascolta abitualmente la musica. Oggi vorrei parlare dello scouting, perché partendo da un'esperienza mia personale, teatrale, arrivo alla musica. Perché parto dal teatro? Perché è un'esperienza che ho vissuto in prima persona. Quando facevo teatro è successo che in uno spettacolo in particolare, tale Garinei, sapete chi è Garinei? Beh, faceva parte della famosa coppia Garinei e Giovannini, l'anima del Teatro Sistina di Roma. E lì ci sono stati i più grandi spettacoli, grazie all'intuito che questa coppia ha avuto nel corso degli anni, nel prendere alcuni spettacoli e portarli a Sistina, o crearli direttamente per il Teatro Sistina e farli diventare dei grandissimi successi in tutto il mondo. Perché insomma, tanti, tanti, tanti spettacoli hanno avuto un eco internazionale. Garinei e Giovannini, ovviamente, voi direte, beh, giocavano facile perché il Tempio del Sistina di Roma, che è un teatro enorme, meraviglioso, dava già di per sé una grande eco, no? Sì, è vero, è vero. Ma come venivano scelti alcuni spettacoli, alcuni attori? Beh, Garinei e Giovannini giravano, giravano nei teatrini piccoli, nei teatrini off, nelle cantine, andavano a scovare quegli spettacolini dove c'erano 30 persone a vedere uno spettacolo, 20 persone, 2 persone. Ed è successo anche a noi, nella compagnia teatrale della quale facevo parte, facevamo uno spettacolo che era Snoopy, il musical, che abbiamo fatto prima in un teatro, abbiamo avuto un grandissimo successo, devo dire, tanti, tante interviste televisive, RAI, di tutto e di più. Insomma, è una cosa molto molto bella e interessante quello spettacolo. Poi ci siamo spostati in un altro teatro più piccolo perché non c'era più disponibilità nel teatro dove eravamo in scena e in quella occasione è venuto Garinei a vederci. Sì, alla fine dello spettacolo è venuto nei camerini, ci ha ringraziato e è andato via. Garinei, cioè quello che metteva in scena al Sistina grandissime produzioni. Andava in giro, ed era già anziano, andava in giro nei teatrini a cercare di scoprire nuove cose da portare magari al Sistina, da sostenere. Ecco perché non si fa più scouting nella televisione? Io penso che forse è l'unico modo, invece adesso si è abdicato ai talent, non c'entra da fare. Per una major, per un'etichetta discografica, per il mercato discografico in genere, è molto più semplice che uno dei ragazzi che già sono nei talent venga preso, come ho già detto nell'altro video, tra virgolette, sfruttato fino a che è possibile e poi si passa ad altro. Invece, se si facessero dei giri nelle cantine, nell'altro video ho parlato dei live che si fanno in giro e che molti gruppi, molte ragazze nelle varie feste di paese salgono su un palco e si fanno un mazzo così a suonare tutta la sera e la gente neanche li segue. Ecco quello dicevo. E quindi ho invitato in quell'altro video il pubblico a sostenerli, a stare sotto quel palco e magari dargli la forza, incitarli ad andare avanti e continuare, magari migliorarsi. Adesso vorrei parlare del capitolo proprio di scouting, ma perché non si fa più? Per quale motivo? Vi posso assicurare che ci sono centinaia, se non migliaia di ragazzi e ragazze e di gruppi che nelle cantine provano a fare la loro musica, ne fanno tanta e alcuni sono bravissimi, musica meravigliosa, soltanto che nessuno li va a scovare, nessuno va a cercare dentro questi bugigattoli, dentro queste cantine, dentro questi box dove questi ragazzi cercano di costruire una carriera musicale, di farsi vedere. L'unica cosa che gli rimane da fare è tentare la via dei talent, perché altrimenti se non approdano a un talent nessuno mai li noterà, non tanto il pubblico quanto le etichette discografiche che se individuano in un ragazzo magari bellino o una ragazza magari bellina e magari bravina e allora la portano avanti fino al successivo ragazzo bellino o ragazza bellina che approderà a una nuova stagione del talent. È lì che bisogna andare a scovare, quindi se i discografici facessero questo probabilmente uscirebbero fuori dei grandi talenti, perché come ho già detto, ma anche per un mero calcolo delle probabilità, delle possibilità, non tutti quelli che vanno ai talent sono eccelsi, no? Ce ne sono alcuni che sono molto bravi, ma tanti altri rimangono fuori e non hanno questa possibilità. E quindi fare scouting, cercare, cercare, esami emoti carbonari, cercare e lì si trova un mare magnum di professionalità, di bellezza, di musica, di energia e di voglia di farcela. Iniziate, tornate a fare scouting, tornate a cercare nei bugi gattoli, nei buchi, nelle cantine, lì trovate una meraviglia. Saranno parole inascoltate questo, lo so, però è per dire che ogni volta che io penso al fenomeno della musica che non riesce ad emergere e dei talenti che fanno, che producono questa musica, beh, mi viene un po' di rabbia, perché ci sarebbe veramente tanto da attingere da questi posti qua. Speriamo che qualcuno, magari più, come dire, illuminato, qualche giretto ogni tanto se lo faccio, me lo auguro, va bene. Allora, vi ringrazio per aver seguito anche questo video, vi do appuntamento al prossimo, vi ricordo come sostenere il canale, sempre con il pollicione, con l'iscrizione e l'attivazione della campanellina, costa niente, sono tre clicchettini veloci, veloci, gratuiti, ma se volete abbonarvi al canale, fatelo pure. Intanto ringrazio i miei abbonati, eccoli qui, grazie per il sostegno che mi date, se volete farlo anche voi, ne sarò veramente felice. Ci ribecchiamo alla prossima, sempre qui, ovviamente. Ciao!